Abbiamo un ulteriore motivo per dire grazie al Santo Padre. In occasione di questo incontro milanese, il Santo Padre ha ricevuto offerte per la sua carità personale. Il Papa ha deciso di devolvere 500.000 euro a favore degli abitanti delle zone colpite dal grave terremoto. Verranno consegnati ai Vescovi di Mantova, di Modena, di Ferrara, Carti e Bologna per sostenere persone e famiglie particolarmente provate nelle loro diocesi. Grazie, Santità.